Io credo che ci siano due o tre diversi aspetti da prendere in considerazione. Primo, i bambini sono stati salvaguardati nel corso dei secoli. Io penso che questo problema sia presente nell'esperienza dell'umanità da sempre. Se noi guardiamo alle favole, che almeno io ho ancora letto, adesso non so quanto le favole di un tempo continuano a essere conosciute dai ragazzi di oggi, vediamo questo. Il cappuccetto rosso e il lupo, cos'era? Il lupo cattivo che poi si mangiava cappuccetto rosso, se non il pericolo dell'estraneo. L'orco delle favole, la strega delle favole. E anche quello che diceva l'assessore, cioè incutere la paura dell'orco e poi trovare invece la persona gentile. Ma anche questo nelle favole di alcuni secoli fa era presente. Se ricordate la favola di Hansel e Gretel erano attratti nella casa della strega con i dolci, quindi con il cioccolato, con le cose che potevano piacere ai bambini. E lo stessa favola del pifferaio che si porta dietro tutti i bambini fino a portarseli con sé nel mare. Che cos'era? L'idea dell'attrazione da parte di un adulto sui bambini. Il problema è che naturalmente per molte generazioni la realtà del mondo era stabile, quindi sostanzialmente i messaggi delle favole, che avranno poi esperienze di secoli, erano sufficienti. La realtà del mondo di oggi è più complicata. Più complicata intanto per la realtà di internet e poi più complicata proprio perché oggi i rapporti sociali, le concentrazioni urbane, tante cose sono diverse. È molto meno probabile, salvo il parco pubblico, che uno incontri l'orco nel bosco. È molto più probabile appunto che solo incontri davanti alla scuola. Allora noi intanto abbiamo un po' perso la capacità di prestare attenzione al dialogo fra generazioni. Questo è un vero problema che abbiamo soprattutto negli ultimi decenni. Abbiamo una grande incapacità di dialogare fra generazioni. Poi perché questo avviene è un altro problema che sarebbe utile i sociologi e gli psicologi indagassero. Io dico sempre che quando io ero giovane le figlie volevano assomigliare alle madri, adesso che giovani non sono, sono le madri che vogliono assomigliare alle figlie. Quindi è completamente rovesciato il rapporto. Sembra che gli adulti non si facciano più carico di insegnare ai più giovani, ma anzi li vogliano imitare, creando un cortocircuito psicologico ed educativo complicato. E poi probabilmente perché c'è meno sensibilità. Io ricordo sempre con un qualche stupore il caso dei minori di Rignano con i genitori che andavano a un noto talk show televisivo a parlare, dichiarare, esibirsi, farsi intervistare. Con la conseguenza evidente che questi bambini saranno marchiati per sempre perché il rapporto fra i genitori e il bambino è innegabile. Quindi diventa quasi inutile che l'autorità garante per la protezione dei dati raccomandi sempre di proteggere le vittime degli abusi non pubblicando i nomi, non pubblicando particolari che li rendano riconoscibili, quando i genitori stessi si esibiscono, quando invece di proteggere i figli colgono un momento di notorietà potenziale. Senza per questo poi volerli giudicare perché hanno già problemi più complicati. Quindi siamo in una realtà complessa nella quale vediamo molti degli aspetti negativi della nostra epoca. Molte volte anche i mezzi di comunicazione sono imprudenti, perché non basta non mettere i nomi degli abusati o neanche le iniziali. Se comincio a descrivere la famiglia, il quartiere, le condizioni, le circostanze e via numerando la scuola e così via, restringo comunque a un pubblico così limitato di possibili vittime, in realtà da ledere lo stesso la figura della persona e quindi farlo sentire abusato due volte, violentato due volte, vittima di stupor due volte e così via. Sono tutte questioni che invocano un rapporto più maturo. Questa società sarebbe utile che maturasse, lo dico più agli adulti che ai giovani, che noi non possiamo chiedere ai giovani di maturare in fretta se gli adulti non maturano. E anche nel dialogo con la stampa non è giusto che l'autorità garante sia vista come una sorta di cerbero censore, un dialogo di maturazione complessiva e collettiva che in questo Paese non è sempre facilissimo, anche se molte volte è positivo. Devo dire che su questi aspetti, sull'attenzione alla protezione dei minori, al codice deontologico, alla carta di Treviso, la stampa italiana è sensibile. Però poi capita che pur in questa sensibilità si dimentichino le circostanze di luogo di fatto che rendono inutile l'anonimia. Per non abusare del tempo che mi è stato dato, una seconda considerazione che vorrei fare è internet. Internet è molto più complicato. Non solo per il commercio di immagini pedopornografiche su internet fra gli appassionati del genere che commettono ovviamente dei reati e per fortuna la legge è sempre più precisa e puntuale nel qualificare come reati comportamenti devianti di allarme sociale particolarmente rilevanti. Su questo la Polizia Postale sta facendo un lavoro eccezionale. E tuttavia c'è un problema di protezione del minore. Sono molto più preoccupato del pedofilo che adesca il minore su internet che non dei pedofili che si scambiano le fotografie. Non perché non siano gravi entrambi, ma perché il primo è più grave. Io devo riuscire a prevenire il fenomeno di violenza sul minore e devo riuscire a proteggere il minore. Ora qui non solo non abbiamo favole, perché nessuno ha inventato le favole per l'era internet, ma non abbiamo neanche la consapevolezza. I genitori italiani non sanno. Se pensate che secondo un'indagine il 67% degli adulti italiani non si pone minimamente il problema di dare istruzioni ai teenager su come usare internet o a dialogare con i figli in ordine a internet, se pensate che sostanzialmente secondo dati del Sefer Internet Day dell'anno scorso il 73% dei minori sono stati contattati online da sconosciuti, se pensate che oggi l'uso del sistema internet per adescare i minori e la pedopornografia vede coinvolte un numero relevantissimo di persone e sull'universo dei pedofili mondiali gli italiani sono il 5% e che noi abbiamo casi numerosissimi di fenomeni di adescamento online. Ci rendiamo conto che è tutto da costruire. Chiudo dicendo che su questo, se poi mi si ridarà l'occasione eventualmente farò ulteriori approfondimenti, che su questo non basta più dare regole, dobbiamo riuscire a creare azioni attive e quindi io credo che sia necessario un grande dialogo con i social network, i quali sono preoccupati, non a caso Microsoft è sempre presente in questi tipi di occasioni, ma lo stesso vale per Facebook e sono preoccupati per la pedofilia, sono preoccupati perché l'accesso dei minori sui siti internet può provocare anche danni commerciali e qui c'è un grosso problema. Non è che non è possibile individuare se l'utente della rete in quel momento è un minore e eventualmente proteggerlo, se accede a certi siti o viene contattato per certe finalità e che questo rischia di implicare un controllo sul contenuto delle comunicazioni e allora il rischio è che per proteggere i minori io controllo tutti gli utenti della rete e violento la libertà di comunicazione. Quindi c'è un problema di equilibrio intorno ai quali però con attenzione e cooperando attivamente si possono trovare delle soluzioni adeguate. Io credo che su questo dobbiamo applicarci tutti, dalla Polizia Postale ad Autorità Garanti ai gestori e ai provider dei siti internet. Grazie.